Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di One Piece e dirvi cosa ne penso di una cosa che sto leggendo e sentendo in giro negli ultimi tempi. Ed io non sono assolutamente d'accordo su queste affermazioni che fanno alcuni fan sull'opera di Eiichiro Oda. Perché se ci pensate non è proprio così e la verità viene rivelata nella lettera che Oda scrisse quando finì lo sconto tra Kaido e Rufy prendendosi anche una pausa di un mese. Ok sappiamo che questa pausa è servita sia per preparare la saga finale che conterrà gli ultimi archi narrativi e sia perché è dovuto partire per andare in Africa e supervisionare il telefilm live action di One Piece. Ed apro una parentesi al riguardo. Se Oda si è scomodato per andare fino in Africa per assistere alle riprese e per supervisionare il tutto vuol dire che non sarà una schifezza come la maggior parte di voi pensa ma sarà sicuramente fatto bene. Vi ricordo che il regista ha detto che non sarà una fotocopia del manga perché non avrebbe senso. C'è l'anime no? E sicuramente cambieranno qualcosa ma la trama non verrà stravolta. Sarà quella. Inoltre è stato detto che sarà anche un po' più dark rispetto all'opera originale. E devo dire che questa è un'ottima notizia e per finire forse abbiamo anche una data di uscita di questa serie tv. Infatti se andate sul profilo Instagram di Makenyu che sarebbe l'attore che interpreterà Zoro leggerete scritto nella sua bio One Piece Netflix 2023. Quindi con molta probabilità questo live action uscirà l'anno prossimo. Io penso verso la fine ma aspetteremo il tanto atteso trailer. Chiuso a questa gigantesca parentesi e parlando del topic principale del video la cosa che volevo dire anche se penso l'abbiate capito dopo aver letto il titolo si tratta proprio del pensiero che Oda abbia premuto sull'acceleratore dato che negli ultimi capitoli stiamo ricevendo informazioni su informazioni e questo non accade quasi mai in One Piece. Secondo me ci sta come pensiero ma penso che sia errata come affermazione perché parliamoci chiaro. La saga di Uano che all'interno ha anche l'arco narrativo di Onigashima è durata veramente troppo. Io credo che Oda poteva anche accorciarlo un po' e inserire i soliti plot twist che abbiamo visto comunque in questa saga. Ma probabilmente è stata allungata perché Uano non è solo importante per la chiusura di un cerchio che riguarda proprio i Kozuki e gli abitanti del regno di Uano ma è super importante proprio a livello di storia dell'intera opera. Infatti il mangaka ci ha rivelato non solo il trucchetto che usano i più forti del mondo che sarebbe quello di rivestire il corpo con l'Aki del re così da aumentare enormemente la potenza dei colpi e nel contempo aumentare a dismisura la difesa e il tutto unito all'Aki dell'armatura che sia normale o che sia avanzato. E non solo abbiamo visto anche la rivelazione del decennio se così vogliamo dire ossia il frutto di Rufi in realtà non è un paramisce e non si chiama Gom Gom bensì è uno zone mitologico e nello specifico è un Ito Ito modello Nika, dio del sole. Mi raccomando non chiamatelo Nika Nika che è sbagliato dato che chiamandolo così potrebbe sembrare un paramiscia o un roja. Ma le sorprese non finiscono qui perché dopo ben vent'anni circa scopriamo che Pluton in realtà è nascosta sotto l'isola di Uano e non ad Arabasta come abbiamo sempre pensato e Zunisha serviva per distruggere quelle mura per liberare sia la vecchia Uano, quella di 800 anni fa che venne sommersa dalle piogge, e sia per liberare l'arma ancestrale. Apro una piccola parentesi sull'acqua dolce che si trova Uano. Allora, dolce o salata che sia, un fruttato non riesce comunque a nuotare all'interno di essa, basta solo che l'acqua ricopra tutto il corpo di quest'ultimo. Spero che sia chiaro, chiusa parentesi. Quindi come potete vedere questa saga è stata forse la più importante fino a quel momento e penso che è per questo che Oda ha allungato un po', anzi, non un po', ma di molto il brodo, per non parlare poi della morte dei due imperatori, perché io continuo a pensare che siano morti. Uno perché Pudding è sicura che la madre se ne sia andata, forse l'ha scoperto tramite una viver card che i figli possedevano della madre, ricordando che Lola ne aveva una. E penso che anche Kaido sia morto, perché questi due personaggi sono troppo scomodi per tenerli in vita. E non iniziamo a parlare del fattore special omis, perché nei video precedenti ne ho parlato fino allo sfinimento dicendomi perché Zeus è ancora vivo e del perché Pandora sia scomparsa in passato. Cioè, quest'ultima potrebbe essere stata mangiata da Lilin insieme ai bambini e a madre Caramel. A parte ciò, cosa disse Oda nella lettera che ha scritto quando andò in pausa? Scrisse questo. Vi svelerò tutti i misteri di questo mondo, sarà super interessante, vedrete. Allacciate le cinture e attendete ancora un po'. Penso che abbiate capito, no? Oda non ha per niente accelerato, sta solo rivelando le cose che doveva rivelare e per noi ci sembra che abbia velocizzato il tutto solo perché Oda ci regalava delle informazioni importanti con il contagocce. Ma ora One Piece è entrato nella saga finale e l'autore non può più nascondere i misteri del mondo che ha creato e verrà rivelato tutto. È solo questione di tempo. Abbiamo patentato per ben 25 anni e possiamo patentare ancora un po'. E se siete dei veri fan di One Piece rimarrete al fianco di Oda fino alla fine. Diamogli il nostro sostegno e facciamogli vedere che ci teniamo. E spero che abbiate capito quindi il perché ci sembra che l'autore negli ultimi capitoli abbia deciso di velocizzare il tutto. E per finire, volevo dirvi una mia piccola opinione che riguarda proprio il tesoro di Joy Boy, il tanto agognato One Piece. Allora, tutti noi non vediamo l'ora che quel giorno arrivi, il giorno in cui il mangaka ci rivelerà finalmente cosa diavolo ha lasciato Joy Boy su quell'isola che Roger ha denominato Love Tale e che nessuno in 800 anni, a parte loro, ha messo piede. E vedendo le risate dei Rogers, compreso il capitano, ovviamente, penso proprio che il One Piece sia un mezzo troll, quindi non aspettatevi chissà chi. E spero che non rimaniate male. E ricordate le mie parole, sarà probabilmente 50% troll e 50% serio. E lo dico non solo per le risate di Roger e Churma, ma anche per ciò che riguarda il frutto Nika, che viene definito come il frutto del diavolo più bizzarro al mondo, e nello scontro con Kaido ne abbiamo avuto la conferma. E Joy Boy possedeva quel frutto, quindi mi raccomando, io ve l'ho detto. Spero di sbagliarmi però. E prima di concludere questo video, ho visto in giro che in molti stanno condividendo una teoria sul tesoro di Joy Boy. E la teoria parla che in realtà si tratti proprio del fumetto di One Piece, cioè proprio il manga cartaceo, e che i personaggi all'interno del mondo dell'opera di Oda si trovano in realtà proprio dentro ad un fumetto, ed è per questo che Roger si è messo a ridere. Ma qui c'è una controteoria. Se così fosse, perché il re dei pirati ha detto che avrebbe voluto tanto vivere nell'epoca di Joy Boy? Cioè se tutti si trovano in questo fumetto, non ha senso una tale affermazione. Non credete? E poi a cosa serve Poseedo nella ricarnazione di Joy Boy o la volontà di quest'ultimo che risiede in Rufy? Cioè vedete anche voi che qualcosa non quadra. Però non è vietato sognare, quindi sogniamo finché possiamo, fino alla rivelazione dell'arcano. Perché ricordiamo che Oda non solo non ci ha mostrato il One Piece, ma nemmeno la Half Tale, tranne quei disegni dove vediamo l'isola leggendaria avvolta da una tempesta, ed io continuo a pensare che si trovi al centro della Reverse Mountain. Poi chissà, ma pippe mentale a parte, volevo dirvi che su Pampling ci sono ancora tantissime offerte e troverete tutte le maglie ed altro a prezzi stracciati. Quindi passate sul loro sito, trovate il link qui sotto in descrizione e nel primo commento. Non vi dimenticate di usare il codice ILGUN91 per ricevere un piccolo regalino. Ad ogni modo fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se vi va di supportarmi e seguitemi anche su Instagram. Passate anche sul canale Telegram di One Piece Uniti e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.